Utilizzo un chile e mezzo di patate, lavate benissimo le vostre patate, pelate le vostre patate e poi le tagliate o a cubetti oppure le tagliate a fette, come vi piacciono un po' a voi diciamo, molto dipende dai vostri gusti. Io li taglio così a tocchetti, non troppo spesse, però neanche troppo sottili. Bene, adesso prendete una ciotola, io prendo una ciotola in vetro, metto acqua fredda e poi vado a versare il ghiaccio sopra le mie patate e le lascio riposare così con il ghiaccio per circa 10 o 15 minuti al massimo. Dopo 15 minuti potete scolare le vostre patate, le mettete in una teglia, io utilizzo una teglia di forma quadrata, mi raccomando fate attenzione a levare tutto il ghiaccio. Utilizzo due spicchi d'aglio, li taglio a metà, se preferite lo potete tenere interi, a me l'aglio piace e poi vado a versare il pan grattato. Distribuisco tra i 6-7 cucchiai abbondanti di pan grattato su tutta la superficie delle mie patate. Una volta che ho distribuito così tutto il mio pan grattato, metto anche le foglie di rosmarino su tutta la superficie delle mie patate. Quindi vado a versare il rosmarino fresco in questo caso. Pepe nero macinato, ne metto un po', non tantissimo, non esagerate, e poi vado a amalgamare bene il tutto con il mio cucchiaio. Quindi vado a amalgamare bene i miei ingredienti. Potete utilizzare anche qualche altro tipo di spezia, molto dipende dai vostri gusti. Poi vado a versare anche circa tra gli 80-100 ml al massimo di olio, olio extravergine di olivo mi raccomando, lo verso su tutta la superficie delle mie patate. Una volta che ho distribuito così l'olio, vado ad amalgamare bene il tutto con il mio cucchiaio. Quindi vado ad amalgamare tutti gli ingredienti con le patate. Mi raccomando, mescolate bene il tutto. Verso anche una presa di sale. Poi il sale ovviamente dipende anche dai vostri gusti. Se vi piacciono molte salate potete aggiungere più sale. Io metto una presa di sale e poi vado ad amalgamare sempre con il mio cucchiaio. Una volta che ho amalgamato benissimo tutti i miei ingredienti, quindi ho mescolato bene tutti i miei ingredienti, posso infornare le mie patate con un forno preriscaldato a 200 gradi per 35 minuti. Dopo 35 minuti le nostre patate speziate al forno sono pronte. Costituiscono un ottimo accompagnamento per secondi di carne o pesce. Ragazzi sono davvero buonissime. Provatela anche voi. Io spero che questo video vi sia utile e mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete seguitemi su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come Ricette Golosi di Cartesia. Ciao e alla prossima!